Un giorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Sulla FIPILI sono possibili disagi per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in entrambe le direzioni. Il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 per lavori stanotte da mezzanotte alle 6 rimarrà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in uscita provenendo da Bologna. Per quanto concerne la viabilità cittadina a Firenze è stata prorogata fino al 29 ottobre la scadenza dei permessi ZTL e ZCS e dei contrassegni disabili CUDE in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!